Spiderman No Way Home 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 Home Spiderman No Way Home Spiderman No Way Home Home Spiderman No Way Home Home Abbiamo detto che l'incantesimo viene lanciato proprio per far dimenticare a tutti chi è Peter Parker, a tutti in qualsiasi universo, e infatti è proprio grazie a questo espediente che i nuovi villain non sono più attirati, ma quindi necessariamente anche i villain protagonisti di questo film, una volta tornati nel loro universo, non sapranno più che Peter Parker esiste. Questo però non è più di tanto un problema perché comunque sanno che esiste Spiderman e come abbiamo detto appena tornati probabilmente si arrenderanno e così sopravviveranno. Il vero colpo di scena però non riguarda loro, bensì gli altri Peter Parker. Se l'incantesimo fa dimenticare chi sia Peter Parker a tutti gli abitanti di qualsiasi universo, anche tutti gli affetti di tutti i vari Peter Parker si dimenticheranno di loro. Nell'incantesimo non viene mai specificato che si riferisca al Peter Parker di Tom Holland, anche perché altrimenti non avrebbe senso che ne risultassero coinvolti anche i villain che conoscono un Peter Parker diverso. Quindi secondo questa mia teoria, è vero che il Peter di Holland ha salvato il suo universo da una catastrofe, ma ha forse rovinato la vita di tutti i Peter Parker esistenti, compreso quello di Tobey Maguire, che durante il film dice di essersi finalmente messo con Mary Jane, che però a questo punto probabilmente una volta tornato non saprà neanche chi sia. Ovviamente ci tengo a dire che questa è solo una mia personale teoria e vi invito a farmi sapere nei commenti la vostra opinione in merito. Passiamo quindi ad una scena fondamentale a cui in pochi avranno dato peso se non per il suo forte impatto emotivo, e mi riferisco a quella della morte di Zia May. Questa scena in realtà è fondamentale, perché ci mostra la chiave di lettura del film e ci anticipa in un certo senso quello che sarà probabilmente il futuro di questo Spider-Man. Poco dopo la morte di May, c'è una bellissima scena in cui i tre Spider-Man, MJ e Ned, si trovano sul tetto del liceo per cercare di convincere Peter a concludere ciò che avevano iniziato. In questa scena vediamo il Peter di Garfield in lacrime, che parla della morte di Gwen Stacy, e il Peter di Maguire che parla della morte dello zio Ben. Entrambi sottolineano di avere la colpa di quelle morti, e che tali avvenimenti hanno segnato la loro vita da quel momento in poi. Ed è proprio qui che si trova la svolta. Non so voi, ma io, sia per l'effettiva mancanza nei precedenti film delle tradizionali scene in cui Spider-Man diventa tale grazie al morso del ragno, sia per una leggerezza generale che si è sempre vista nello Spider-Man di Tom Holland, ho sempre sentito la mancanza di un vero e proprio momento che trattasse le origini del personaggio. Ma a questo punto tutto è più chiaro. La morte di zia May non è inutile, tutt'altro. È un passaggio chiave per la maturazione di Peter. Come nella prima trilogia lo è stato la morte di zio Ben, e in The Amazing Spider-Man quella di Gwen, questo momento straziante è solo il punto d'inizio per un nuovo Spider-Man, che a mio parere da adesso in poi diventerà quello che tutti conosciamo, e che da solo riesce a maturare fino a comprendere pienamente cosa è bene e cosa è male. E infatti sarà proprio lui da solo alla fine del film a chiedere che tutti si dimentichino di lui, mettendo il bene del mondo prima del suo. E questo discorso si collega con il vero finale del film, ovvero l'ultimissima parte. Abbiamo un Peter che vedendo i suoi amici felici decide di farsi da parte, di ricominciare una nuova vita, in un'altra città, in una nuova università e con nuove persone. Ed è proprio la scena finale a dare un senso a tutto questo ragionamento. Peter, come gli altri Spider-Man prima di lui, si cuce a un nuovo vestito, di sola stoffa, senza armi né equipaggiamenti tecnologici, e lo fa da solo per ripartire da zero. E prima di concludere, credo che sia doveroso approfondire un attimo le due scene post-credit. Nella prima possiamo vedere Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy come in Venom, poco prima che tutti venissero rispediti nel loro universo. Ovviamente la scena è immediatamente connessa a quella post-credit presente in Venom 2, ovvero la scena in cui appunto Eddie e Venom si trovano catapultati in un nuovo universo. Questa scena si conclude con i due che tornano, senza aver fatto nulla, nel loro universo. Nonostante ciò, e questo è il dettaglio molto importante, una piccola parte di simbionte rimane in questo universo, dando un significato preciso alla scena. Venom apparirà nel Marvel Cinematic Universe, ma non sarà il Venom di Tom Hardy, legato a Sony e quindi impossibilitato ad apparire, ma sarà grazie a questo espediente un nuovo Venom. La seconda scena post-credit è invece più complessa ma comunque chiara. La scena mostrata non è nient'altro che un teaser trailer di quello che sarà il sequel, prossimamente in uscita, di Doctor Strange, ovvero Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Questo film prenderà le basi proprio da No Way Home e vedremo lo stregone alle prese con le conseguenze che la sua leggerezza nell'esecuzione dell'incantesimo, di cui parlavamo prima, hanno avuto sul multiverso. Ci tengo anche a dare un mio brevissimo giudizio finale prima di chiudere il video. Il film mi è piaciuto davvero moltissimo. Non si può negare che alcuni espedienti di trama siano stati leggermente forzati, ma nonostante ciò il film riesce pienamente nel suo intento, ovvero farti emozionare. Ti fa emozionare nelle scene più toccanti, davvero ben realizzate, ma soprattutto ti fa emozionare per tutti i riferimenti, più o meno diretti ma sempre realizzati con criterio, ai vari precedenti film. E quando l'ho visto al cinema, al momento delle apparizioni di Andrew Garfield e Tobey Maguire, è partito un lungo applauso all'interno del cinema, ed è una cosa a cui raramente si assiste durante la visione di un film. Bene ragazzi, il video di oggi è giunto al termine. Io spero davvero che lo abbiate apprezzato e nel caso mi raccomando lasciate un like qui sotto, che mi fa anche capire che volete altri video a tema Marvel sul canale. Se ancora non l'aveste fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi contenuti e mi raccomando attivate la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che caricherò qualcosa di nuovo sul canale. Io come sempre vi ringrazio per la visione e bye guys, al prossimo video! Ciao!